cari amici bentornati in questo nuovo video podcast sempre 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 dalla ormai non si può chiamare più quarantena lu però no ma anche perché tecnicamente io credo che chiamarla quarantena si è sbagliato no perché dovrebbe essere casomai isolamento la quarantena è quando c'è un qualcosa di sospetto è un periodo d'osservazione quindi era comunque credo che credo che comunque non si potesse già chiamare prima quarantena però diciamo che abbiamo reso l'idea dai facciamo abbiamo fatto questa spiegazione però abbiamo reso l'idea cioè questo format un po particolare giusto per non farti ripetere per l'ennesima volta per non usarti come professore di recupero no invece lo userò ancora e ripeterò che ripetiamo ancora una volta che noi abbiamo questo questo nuovo format di podcast che è una situazione d'emergenza e quindi andiamo essendo lontani essendo bloccati e tutto quanto stiamo utilizzando questo questo periodo per fare questo specie di podcast che poi terremo abbiamo detto perché vi ringraziamo esatto è piaciuto molto apprezzato parliamoci chiaro di affiancarci le prove delle auto prima possibile esatto per discutere per discutere delle novità nel capo dell'auto e poi senza senza nasconderci perché i piedi pesanti devono anche essere un po così sinceri anche al loro malgrado e c'è da dire che comunque questo podcast proprio perché è piaciuto a noi ci ha fatto crescere è chiaro che perché molti l'hanno apprezzato molti sono diventati i nostri amici sono aggiunti a telegram ci hanno dato fiducia e quindi siamo un po cresciuti detto questo aspettatevi comunque un ritorno a bordo poi la finisco il telegram è una grande fonte di ispirazione sempre sì assolutamente sì e aspettiamo aspettiamo nuovi amici su telegram quindi se volete noi lasciamo sempre il link sotto nella descrizione insieme agli articoli e quindi ci trovate molto facilmente oggi la protagonista però la lancio io lui lancio io la protagonista che in realtà è una notizia però noi parliamo un po di questa storia della fiat panda basata sul prototipo 120 che è stato presentato da fca da fiat nello specifico qualche mese fa tu come la vedi come la vedi questa news che poi è stata confermata scusa se ti interrompo è sempre piaciuta molto da subito e ritengo che sia stata una un colpo di genio io ovviamente la da subito la ritenuta della radio della panda della prima panda proprio nel suo essere geniale e nel suo essere quella macchina che portava qualcosa a tutti esattamente come la panda ha portato qualcosa a tutti e quindi non posso che essere contento sì devo essere sincero anche in me ha scatenato una reazione molto simile seppur io abbia anche apprezzato questa componente futuristica è un po stravagante che sinceramente su alcune auto italiane soprattutto del gruppo fiat non si vedeva da un da un bel po possiamo dire stranamente ti dirò che odio meno le parti lucide di nero lucido e parlo nel caso specifico del posteriore perché faccio lo stesso discorso che ho fatto scrivendo l'articolo della nissan gtr di tal design ovvero che in questo caso colorare di nero lucido la parte posteriore da un senso di profondità che altrimenti sarebbe sconosciuto a questa tipologia di vetture una cosa un po particolare se volete comunque leggetevi quell'articolo e sicuramente capirete detto questo esatto ti cedo la parola nel senso che voglio sapere anche il tuo punto di vista ma io ti ripeto io credo che 120 sia geniale perché è modulare è una cosa che ti costruisce quindi veramente secondo le tue esigenze no dovrebbe portare un po quella filosofia degli ultimi anni in cui paghi quello di cui è una cosa progressiva quindi paghi una cosa in funzione delle cose che vuoi aggiungere aggiungi l'autonomia aggiungi i pacchi di batteria aggiungi gli accessori stampati in 3d poi adesso va di moda questa cosa però o meno comunque aggiungi gli accessori che vuoi e ti componi la macchina veramente per le tue esigenze ed è deve essere appunto quello che portava l'elettrico a disposizione di tutti a un prezzo decente ora però non è stato chiarificato se quale quanto di questa di questa modulare verrà portato nel nuovo panda io mi auguro che sia che sia quello il vero plus perché i macchini di utilità elettrica adesso ce ne saranno ecco questo è il punto che volevo fare poi sinceramente noi abbiamo seguito un po l'evoluzione di questa macchina seppur avvenuta abbastanza in sordina e abbiamo seguito anche le dichiarazioni di olivier françois françois prezzo si pronunci così poi la mia ignoranza in materia epica comunque il ceo sostanzialmente di fiat reparto marketing se non vado errato ha confermato che questa 120 si farà o meglio si farà una panda che trarrà ispirazione da questa 120 sarà una panda completamente elettrica e raccoglierà raccoglierà ora sono anche problematico nel parlare l'eredità se così si può dire di questa autovettura ora io spero sinceramente e poi voglio sapere cosa ne pensi tu che per eredità si intenda non tanto le linee quindi queste linee squadrate che poi fanno da sempre parte del dna panda quanto piuttosto questi interni modulari ma anche le batterie di modulari la vedo complicatissima però questa disposizione degli interni tanto tradizionale quanto innovativa e soprattutto personalizzabile cioè tu puoi cucirti l'auto in base alle tue esigenze sì perché è sì perché esattamente quella la vera eredità della panda se tu vedi la pubblicità della prima panda 30 quella che era girata in tutta non so se magari la metteremo un link quella che era girata un po' in tutte le città d'italia in cui si vedeva quello di milano che diceva la panda perché quell'altro che diceva questa è buona è una bella macchina che ci caricava al vino a firenze no ed era quella cioè il vero valore aggiunto di quella macchina è era proprio questo questo portare la versatilità in un mondo che era di piccole berline tre volumi no sì esatto per vederti a caricare le damigiane di vino in una 128 mio nonno compro la panda proprio perché ci caricava la roba panda in campagna cosa che non poteva fare su una 128 sì esatto è proprio la possibilità di rendere un'auto come questa adatta a qualsiasi più o meno a qualsiasi tipo di utilizzo e anche di cliente di utilizzatore quindi e quindi anche un'auto giovanile anche un'auto che nel mondo d'oggi potrebbe sfondare qualsiasi limite se ti immagini la ragazzo oramai purtroppo per come siamo messi economicamente deve essere un ragazzo in carriera però se ti immagini il ragazzo che magari nel tempo libero fa surf e si stampa si scarica si compra gli attacchi per il surf si compra il sedile apposta magari con la cuccia del cane o del gatto o magari non lo so cioè diventa diventa quell'auto tailor veramente tailor made sì sì poi io mi auguro che sia questa io mi auguro davvero che sia questa perché secondo me questa possibilità avvicinerebbe molti appassionati del marchio e della panda ma anche appassionati di tecnologia e ora ti faccio il punto fondamentalmente un'auto come questa rappresenta una rivoluzione in tutto e per tutto in linea con la rivoluzione che ha portato la stampante 3d con la stampante 3d fai ciò che vuoi nella panda con la stampante 3d puoi fare tutto quello che vuoi puoi metterci tutto quello che vuoi perché una volta che io la riassumo così scusami e perdonami un po anche l'ignoranza noi viviamo l'epoca che potremmo definire delle mod mod è un termine penso utilizzato in tecnologia in campo videoludico esatto per intendere una un'aggiunta no un'aggiunta particolare mi ricordo su gta ci si metteva tipo la tema o questo intendo quindi la polizia quindi se noi si proprio questo intendevo comunque applicato alla panda questo concetto o meglio la 120 che cosa vuol dire che se fiat crea un'auto ora guardiamo solo la plancia con questo tipo di plancia tutto bucherellata dove ogni bucherello rappresenta un supporto chiunque ha la possibilità con una stampante 3d o con un qualsiasi altro oggetto predisposto a fare questa formazione di prendersi due misure una volta che si prende due misure può crearsi il supporto che gli interessa può crearsi ciò che vuole vedere nella sua auto che sia una cosa utile o inutile non sta a noi dirlo e non ce ne frega nulla però di fatto l'auto diventa nuovamente personalizzabile dico nuovamente perché c'erano anni in cui l'auto te la cucivi un po sul tuo carattere sul tuo modo di essere non omologata alle mode di altri assolutamente ed ecco allora che ti compri la panda la 120 ci fai quello che vuoi tu che ne dici assolutamente è assolutamente il concetto è esattamente quello è proprio quello che spero che che passi insomma di quello che spero che sia questa nuova panda perché ripeto di utilitari generaliste che siano elettriche a benzina a etanolo a bischero ce ne sono tante e soprattutto se vogliamo andare a combattere sul generalista arrivano i coreani e spaccano tutti le ossa perché sono i più forti quindi vogliono fare qualcosa di speciale qualcosa di speciale qualcosa di italiano qualcosa che ha qualcosa di fantasia è esattamente quello insomma sì quindi deve essere così la nuova panda deve essere così deve essere così perché molti potrebbero vederla non solo come l'evoluzione della classica panda ma come una tavolozza di colori con il quale poter dipingere ciò che si vuole quindi tu compri la macchina che è poco più di un progetto che tu puoi però fare intorno a te stesso esattamente come quando compri la casa bravo a grezzo e te la fai costruire esatto esatto a me viene in mente una cosa del genere mi intriga molto anche se viene meno il concetto di automobile quindi qua non parliamo di un'auto da appassionati da sportivi da piedi pesanti stiamo parlando di un'auto elettrica quindi già qui non stiamo parlando di un'auto da appassionati stiamo parlando di un'auto per spostarsi esatto per spostarsi ma sinceramente se devo spostarmi e posso farlo circondandomi delle cose che mi piacciono o comunque assecondando tutte le mie passioni e tutte le mie esigenze ma ben venga ma ben venga perché metti un po una pezza a quella passatemi il termine rottura di palle derivante dall'avere un'auto anonima elettrica che non ti dice nulla questo è il senso e poi quello che dicevo l'altra volta della della il3 space vision che era un'auto che a me piaceva perché era diversa perché era coraggiosa e questo stessa cosa secondo me nel garage gli si affianca bene questa questa panda 120 ideale diciamo esatto e poi c'è un elemento da non sottovalutare che possiamo vedere qui nella foto tu forse non ce l'hai di fronte naturalmente ma la foto dell'interno della plancia centrale c'è il bellissimo panda che è caratteristico e già diciamo faceva un po capire quale fosse il futuro di quest'auto ma la cosa più bella che vedo è una un supporto sul quale è posizionato una gopro questo cosa significa quando uscirà e ai piani alti di fca saranno così gentili da lasciarcela in prova per qualche tempo noi sappiamo già dove posizionare la gopro quindi noi siamo pronti ora dobbiamo solo trovare fantastico dobbiamo solo trovare chi ce la presta comunque scherzi a parte ragazzi un'altra cosa che un'altra cosa che è geniale che non credo che passerà e sarà mai omologata sull'auto nuova ma visto che sono state omologate le frecce progressive chi lo sa come potrebbe succedere nella vita era quella striscia posteriore nel quale mettere i messaggi è un po il sogno di tutti poter mandare a cagare scusate il termine è così è così perché poi lo usi per quello parliamoci chiaro parliamoci chiaro è sogno di tutti o che in realtà poi in un utilizzo molto più concreto sarebbe stato magari l'utilizzo pubblicitario con l'auto in sosta quindi magari un aiuto economico o nel caso del car sharing che però non si sa bene che fine farà con quello che sta succedendo sarebbe stato a maggior ragione un post dove inserire delle pubblicità e dove poter io penso a questo che tutto ciò che è personalizzabile ha infinite opzioni d'utilizzo quindi se qui hai lo schermo posteriore per trasmettere i messaggi o le pubblicità o quello che vuoi hai tutte le parti dell'auto che possono essere configurate gestite opzionate se così si può dire con ciò che ti interessa è chiaro che tu di quest'auto puoi fare qualsiasi cosa e puoi farci qualsiasi cosa e quindi l'azienda l'auto noleggio auto di cortesia auto per la famiglia tra virgolette auto da città auto per accompagnare i figli a scuola possiamo non finire più questo è tipo vestire letteralmente quindi bene così insomma molto bene così aspettiamo altre conferme fca la conferma la data adesso non ci resta che aspettare ma prima di salutarvi anzi vi salutiamo con questa foto tanto inutile quanto carina ed evocativa ovvero la foto di questa 120 in un allestimento cross anch'esso modulare anch'esso con tutto ciò che vogliamo che fa sorridere perché in fondo non la vedremo mai così secondo me perché un'auto elettrica offroad stuzzica proprio quelle fantasie stuzzica quelle fantasie che hanno portato la SUV a essere desiderata sai stuzzica quella voglia d'avventura quella voglia di scappare bravo 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 potrebbe raccogliere questa filosofia dei SUV però in una chiave diversa la chiave in cui la butto lì questa potrebbe essere una stronzata epica però c'hai quei due fendinebbia davanti che essendo l'auto modulare li togli e li metti quando ti pare hai le casse sopra che anche se possono essere attraverso una slitta tolta e messa insomma di che stiamo parlando un'auto che può cambiare volto a vostro piacimento un saluto ci vediamo alla prossima ragazzi fateci sapere cosa ne pensate voi assolutamente ciao a tutti